Sono quelle decisioni che fanno sobalzare dalla sede i cittadini che poi a mente fredda fanno dire beh siamo in Italia. Infatti mentre il mezzogiorno è aggredito da incendi senza continuità di sosta compresa la provincia eblea, il governo centrale cosa fa? Chiude a tempo indeterminato il distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Croce e Camerina. Una struttura come si ricorderà nata dieci anni fa con la loro amministrazione Schembari e oggi bloccata in un momento sicuramente poco opportuno visto che ci sono ampie zone del territorio in preda alle fiamme, specie quelle pedemontane. Sarebbe la conseguenza, dicono, delle missioni in ruolo dei cosiddetti vigili del fuoco discontinui. A Santa Croce erano 37 su 40, il resto volontari e le loro dimissioni da discontinui ha quindi decretato la chiusura temporanea della struttura. Tutto questo mentre il territorio continua a bruciare con gli incendi che hanno interessato nelle ultime ore la zona boschiva nei pressi di Monte Rossoalmo e quindi facendo alzare l'allerta anche nella vicina che era a Montegulfi. In azione due squadre di vigili con il supporto della forestale per ci scoscrivere le fiamme ed evitare che possa ripetersi quanto drammaticamente accaduto qualche settimana fa nella pineta che era montana.